Sarà il mare di Napoli il grande protagonista dell'edizione 2012 dell'America's Cup, la competizione velica più importante del mondo che da mercoledì 11 aprile si svolgerà nello specchio d'acqua antistante via Caracciolo. E con la presentazione del programma di iniziative previste in città, istituzioni e organizzatori dell'evento questa mattina hanno annunciato l'avvio della manifestazione. Un'occasione straordinaria per la città, stanno ammirando tutti i frequentatori del village che questo è un lungomare straordinario, ovviamente non lo sarà solo per l'America's Cup, questa era l'occasione per dimostrare le potenzialità del mare e del lungomare, quindi Rotonda Diaz e via Caracciolo saranno per sempre così, chi non viene si perde tanto. C'è stato l'impegno e l'intesa istituzionale di tutti, al di là della provincia ma anche degli altri enti e questo deve essere per tutto perché le cose si fanno insieme. È una vetrina internazionale, un grande evento sportivo che porta anche risorse perché è uno dei pochi eventi sportivi che in termini di investimento conviene a un territorio ed è poi una proiezione chiaramente rispetto ai sì tanti problemi che abbiamo ma che li vogliamo affrontare guardando al futuro e guardando a tante occasioni appunto per far vedere questa straordinaria città, questa straordinaria regione. Domani a partire dalle 11.30 sarà aperto al pubblico il villaggio eventi allestito nella villa comunale che accoglierà gratuitamente cittadini e turisti con aree tematiche dedicate allo sport, allo spettacolo e all'intrattenimento. Dalle 10 e fino a mezzanotte i visitatori potranno passeggiare attraverso gli stand riservati all'enogastronomia e campana, alle eccellenze dell'artigianato locale e degustare specialità del territorio abbinati ai sapori delle otto nazioni partecipanti. La location lo hanno detto i nostri ospiti che è fra le più belle che hanno mai visto fino ad ora, la città è risposta in maniera egregia, c'è tutto, anche il vento perché qualcuno sperava che non ci fosse il vento invece ci sta, il vento, per il pubblico forse un po' il sole in meno ma credo che lo spettacolo sarà assicurato. Domenica in piazza Plebiscito avrà luogo la spettacolare cerimonia di inaugurazione dell'evento con i campioni che saranno presenti in gara, videoproiezioni tridimensionali e coreografie artistiche trasformeranno la piazza simbolo di Napoli in un gigantesco acquario virtuale e sulle note di Caruso, un affettuoso omaggio a Lucio Dalla, uno spettacolo di fuochi d'artificio darà ufficialmente il via alla Coppa America.